Grazie mille davvero per averci invitato a questa bellissima festa quindi grazie mille al silenzio profondo grazie mille a Massimo per aver consentito finalmente siamo tornati in questo posto fantastico per l'occasione abbiamo un'assista decezione nel senso che è eccezionale averlo fatto questo ragazzo si è dato una martellata sul dito due settimane fa eppure è qua che suona quindi grande amico allora adesso non dirò più un cazzo per tipo 6-7 pezzi perché poi non ci piace suonare quindi però una cosa qua ve la dico venite più avanti su 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 pevanti 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 dai 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 c'è il calore il calore che lo so spesso io se mi felicità prego ma non hai visto fondamenti dai 4 no 4 non lo so ah 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti